Si sono chiusi i lavori della commissione d'inchiesta sui vaccini e sulla verifica del corretto svolgimento delle misure messi in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia. Firenze-Fisa-Livorno, la regione studia la ristrutturazione della strada di grande comunicazione con l'ipotesi di pedaggio selettivo per i TIR. Commissione vaccini, le relazioni di maggioranza e minoranza. Sono state presentate in aula le relazioni di minoranza e di maggioranza con cui si sono chiusi i lavori della commissione d'inchiesta sui vaccini e sulla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da covid-19. Illustrando il lavoro della commissione d'inchiesta, il presidente Vittorio Fantozzi ha affermato che era necessario mettere un punto fermo su un fenomeno con mille sfaccettature, evitando toni apocalittici nella critica. Non siamo stati inquisitori, ha aggiunto, ma abbiamo predisposto un lavoro costruttivo. Le migliori informazioni durante le audizioni ci sono arrivate da chi è stato impegnato in prima linea. C'è stata invece qualche critica sul piano pandemico regionale del 2008, sulla gestione della comunicazione verso i cittadini sulle incertezze della macchina vaccinale nella prima fase. Si è primi in classifica ovunque e sulla scia dei primariati in classifica si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti taluni ritardi, taluni situazioni dettate da una impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costate chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore Covid in Regione Toscana. Nonostante questo, il lavoro costruttivo che abbiamo prodotto mette in risalto non soltanto la straordinaria capacità di resilienza di tutto il sistema sanitario regionale, di tutto il terzo settore di questa Regione Toscana, che è un patrimonio, una ricchezza inestimabile, che va oltremodo valorizzato rispetto a quanto si riesce a fare ora, e di quanto sostanzialmente comunque ci sia anche nella divergenza delle conclusioni di questo lavoro la volontà abbastanza convergente in realtà di arrivare a recuperare un rapporto migliore della rete ospedaliera con il territorio, partendo chiaramente dagli ospedali di periferia, di lavorare chiaramente in attesa degli interventi del Governo sulla carenza di personale, la formazione del personale e la dislocazione di questo personale, però un punto fondamentale serve perché abbiamo riportato al centro di tutta questa storia il cittadino e il toscano, c'è l'esigenza anche di tornare a formare e educare il toscano sotto i profili dell'alfabetizzazione, della digitalizzazione e anche della capacità sostanzialmente di poter avere dei riferimenti chiari in situazioni come queste che chiaramente aspettiamo non si verifichino più. A nome della maggioranza è intervenuta la vicepresidente della commissione d'inchiesta Federica Fratoni, anche lei ha apprezzato il grande lavoro svolto, riconoscendo al presidente di avere condotto i lavori con equilibrio, correttezza e serietà in un contesto non facile. Alla fine di questo lungo lavoro abbiamo evidenziato il fatto che la regione toscana si è trovata a gestire, come le altre regioni, una situazione straordinaria, inedita e di caratura globale, per cui con un panorama assolutamente nuovo e strumenti inizialmente molto carenti, pensiamo, mancavano le mascherine, mancavano i respiratori. Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la giunta al presidente Rossi nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove, l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità, un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale. Pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i covid e non covid, una riorganizzazione profonda alla quale comunque la regione ha saputo rispondere in maniera efficace. Durante il dibattito in aula la consigliera Silvia Nofer ha evidenziato come nonostante il sistema toscano abbia retto, gli errori ci sono stati, come era plausibile vista la straordinarietà della situazione. È una relazione che vorrebbe essere non soltanto una memoria storica per futuri ricercatori ma uno strumento attuale per capire che cosa è stato fatto sia nel bene che nel male e quello che è venuto fuori sicuramente sono stati fatti degli errori dovuti anche alla situazione eccezionale della pandemia ma anche a delle mancanze soprattutto di programmazione e di pianificazione che erano evidenti. Oggi possiamo affermare che se non ci fosse stata questa commissione di inchiesta i cittadini non avrebbero mai saputo che in regione toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato ma non era mai stato attuato neanche in minima parte. Questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini, vista l'eccezionalità della situazione l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno, verso quei cittadini che si sono trovati indifesi, ignari e soprattutto soli di fronte a un problema che era fondamentalmente nuovo. Per il portavoce delle opposizioni, Marco Landi, la regione ha mancato di coraggio non ha avuto il coraggio di fare qualcosa di più per rispondere ai più deboli, ha affermato ricordando il contributo instancabile di tutti gli addetti ai lavori del mondo della sanità. Abbiamo fatto un lavoro molto lungo e completo su questo e abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della regione toscana che da parte nostra non ha avuto coraggio soprattutto nella prima fase quando a livello governativo gestiva Arcuri. Secondo noi l'arrivo di figliolo ha poi cambiato le linee, si è andati a vaccinare gli ultraottantenni ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che non avevano priorità i disabili, i loro caregiver e su questo la regione toscana non ha fatto niente e poi anche sulle vaccinazioni degli anziani, degli ultraottantenni. Per il consigliere d'Italia Viva Stefano Scaramelli è necessario istituire una commissione simile anche a livello nazionale. La Toscana è stata la prima anche su nostra richiesta a fare una commissione d'inchiesta a livello toscano per verificare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato sotto la pandemia in maniera molto acritica ma ovviamente in maniera oggettiva per vedere e di comprendere come è stata la risposta della regione toscana a quell'esperienza. Da Italia Viva parte una richiesta forte, è mio l'emendamento di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al governo di istituire anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta. Lo stiamo chiedendo da anni anche a livello nazionale con il nostro leader Matteo Renzi e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale appunto partendo dalla Toscana si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta perché nel mentre le persone morivano, nel mentre le persone venivano soccorse, venivano in alcuni casi curate, nel mentre il volontariato e i medici davano tutto se stesso per aiutare gli altri c'era chi faceva affari magari sulla disgrazia degli altri e questo va messo alla luce, va fatto una commissione d'inchiesta con poteri parlamentari quindi dalla Toscana dall'esperienza positiva di un'indagine ovviamente conoscitiva così come avviene a livello toscano parte una richiesta forte a livello nazionale perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale e a quel punto fare una commissione permanente d'inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al governo c'era Giuseppe Conte. Con 9 milioni di vaccinazioni, con la Toscana tra le tre migliori regioni italiane, secondo la fondazione Gimbe, nella gestione di un'emergenza mai vista prima si può parlare di sistema efficiente, di momento qualificante alto nella storia della Toscana, concluso il presidente della regione Eugenio Gianni. Stamani è stata la dimostrazione nel dibattito e nella evidenziazione dei temi di quanto la Toscana sia stata complessivamente brava a gestire un momento così delicato e difficile quale la pandemia. Da un'organizzazione che non esisteva perché l'ultima pandemia era stata più di cent'anni fa, la spagnola dal 1918 al 1920, abbiamo messo in campo una squadra che è riuscita a inoculare quasi 9 milioni di vaccini, a portare una copertura al 96-97%. Il motivo per cui oggi il Covid in Toscana quasi non esiste più, stamattina non c'erano nemmeno 200 contagi, è proprio perché la nostra macchina organizzativa, la nostra capacità di rapporto con i cittadini, le energie che hanno visto coinvolto il sistema sanitario regionale con tante persone che come organizzazioni di volontariato, medici e infermieri in pensione, hanno contribuito a creare questo meccanismo, ha consentito di superare il Covid, vantati dallo stesso generale Figliolo, commissario nazionale, come una delle due o tre regioni in assoluto più efficaci nelle misure e nel modo di approcciare quello che è stata la questione della pandemia. FIPILI verso il pedaggio selettivo L'obiettivo è quello di potenziare la FIPILI con corsie d'emergenza e dove possibile anche con la terza corsia, grazie ad un intervento strutturale che comporta ingenti spese non sostenibili con risorse pubbliche di cui godiamo. Così il presidente della regione Eugenio Gianni ha risposto in aula all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi in merito all'introduzione del pedaggio per i tir sulla FIPILI. L'Aggiunta sta lavorando alla creazione di Toscana Strade, la società che gestirà la FIPILI, ipotizzando di applicare un pedaggio selettivo ai soli tir che transiteranno sull'arteria. Abbiamo intenzione, dopo lo studio fatto da KPMG, di provvedere alla realizzazione di una società ad hoc, una società in house della regione, Toscana Strade S.P.A., che si proponga non l'intervento di rincorsa alla manutenzione stradale nella FIPILI, ma possa certo a tratti, con scansioni diverse, ma provvedere a allargarla e a potenziarla, allargarla attraverso la terza corsia dove è possibile e altrimenti realizzando corsie d'emergenza, che oggi non ci sono. Per far questo occorrono almeno 15-20 milioni l'anno e per far questo probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo, ovvero non a tutti i veicoli ma ai tir che possono essere controllati con il sistema satellitare, con 5 grandi strutture che siano archi metallici e che possano controllare, verificare e essere rete di un controllo satellitare di cui sistemi ha la società autostrade. Naturalmente non è un intervento da oggi a domani, è un intervento che noi possiamo pensare che possa realizzarsi da qui a un annetto, però l'obiettivo è questo, per dare alla FIPILI in prospettiva il volto di una strada di grande circolazione che abbia le caratteristiche dell'autostrada moderna. L'ipotesi del pedaggio selettivo non convince il portavoce dell'opposizione Marco Landi, per il quale si potrebbe prendere in considerazione l'applicazione del pedaggio ai sui tir provenienti da fuori regione. Quello che noi abbiamo chiesto è stato intanto di valutare attentamente innanzitutto a chi si riferisce, perché si tratta di un'ipotesi di pedaggio selettivo, cioè per i trasporti oltre le tre tonnellate e mezzo. Noi abbiamo fatto anche valere il fatto che si potesse pensare a un'ipotesi anche ultra selettiva, cioè soltanto per quei mezzi che vengono da fuori regione e non per i mezzi immatricolati in Toscana. Quindi già questo è un'ipotesi che il Presidente ha preso in considerazione. La questione chiaramente riguarda 40 anni di una strada che nella gestione comunque di questa parte politica non ha mai avuto un approccio sulla manutenzione, sulla sistemazione, si è parlato della realizzazione di una corsia di emergenza, addirittura si parla anche di una terza corsia per i tratti dove è possibile farla e questo sicuramente è un elemento positivo che noi come centro-destra avevamo anche nel nostro programma elettorale. Qualcosa va fatto, però se si pensa di sistemare una situazione come quella della superstrada di Firenze-Pisa-Livorno, diciamo lasciata in uno stato di abbandono o di manutenzione sempre straordinaria in questi ultimi 40 anni, facendo pagare il petaggio selettivo ai trasportatori, ai mezzi, oltre tre tonnellate e mezzo, a noi non convince anche perché poi quel petaggio sicuramente non andrebbe a coprire, si stima un introito di circa 15 milioni e questo chiaramente non sarebbe un importo sufficiente per poi garantire la sistemazione effettiva di questa strada. Quindi è un percorso lungo che noi abbiamo voluto portare all'attenzione del Consiglio e che sarà tema importante dei prossimi mesi da discutere anche sulla fattività di questa iniziativa che ci lascia anche sul tema della legittimità perplessi. Per Stefano Scaramelli non servono balzelli perché gli investimenti devono essere garantiti non con i soldi delle imprese ma del governo. Sulla Firenze-Pisa-Livorno serve massima attenzione da parte di Italia Viva, verrà monitorato attentamente la progettualità di una società in house, quello che serve non è mettere un balzello di natura economica contro le imprese o contro i tir, con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro, serve fare un grande investimento. La società in house può essere un'idea ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto su livello nazionale. In gran parte d'Italia è l'ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale e il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse e di fare questo investimento. La società in house può essere un buon volano di investimento ma a nostro avviso gli interventi possono essere puntuali, diretti e quindi la competenza passare di livello regionale ma nel contempo ottenere risorse non tanto dalle aziende che lavorano quanto ovviamente dal governo. Irene Galletti ha parlato di ipotesi surreali. Io credo che l'analisi e le considerazioni del presidente Gianni su come porre un rimedio alla situazione della Firenze-Pisalivorno che rende impossibile la vita di due terzi dei toscani per quanto riguarda i trasporti siano surreali. Sta parlando una persona che non si rende conto di cosa significhi probabilmente riuscire a gestire un'arteria che negli anni 90 è nata con un progetto già vecchio, con delle gravi criticità e per la quale lui sta pensando soltanto a trovare un sistema per creare una SPA dai costi non meglio definiti, probabilmente per mettere su un CDA di persone nominate e quindi per interessi che non hanno nulla a che fare con la viabilità e soprattutto basandosi su un rapporto che al momento nessuno di noi ha visto. Un rapporto che è sul piano finanziario e quello probabilmente sì sarà riuscito a trovare un sistema per far quadrare i conti ma sicuramente non tiene conto di cosa significa per tutte le aziende, per tutto il sistema manifatturiero e commerciale, il tessuto economico della Toscana che nel corso degli ultimi 30 anni è cresciuto intorno a questa arteria significa non capirne le conseguenze economiche in un momento tra l'altro una circostanza di aumento generalizzato dei prezzi che non ha precedenti significa scaricare sull'utente finale i costi di quel pedaggio perché questo saranno il significato e se non saranno scaricati sull'utente finale saranno scaricati sulle aziende e comunque sia ci sarà un sistema di rilevamento del pedaggio che ancora non abbiamo capito come sarà che dovrà essere previsto, valutato perché quanto ha detto su sistemi satellitari o altre idee surreali e futuristiche non sta in piedi.